Oddio, secondo me No, secondo me ragazzini Anche Ambra batte Rosa appena uscito Appena uscita Sì, Criu è molto forte Ambra, però secondo me Rosa appena uscita Non la batterà mai nessuno Marmellone, ma che problemi hai? Non ho provato a leggere un messaggio No, vabbè, mi ho bannato io Buongiorno ragazzi, buongiorno Aspetto sempre qualche minuto prima di parlare Perché tanto qui YouTube manda la live Non la manda, non si sa, non si capisce Ciao Gianpaolo, buongiorno Sì, sì ragazzi Ma Ambra secondo me la nerferanno Ambra secondo me La nerferanno Molto, molto, molto Presto, prima di quanto vuoi immaginate Mi alzo un po' la Ok, la sedia, sto bene Adesso E ovviamente Gerardo Nello shop Sempre codice creatore GGYT È partito anche il night Va bene Raga, io direi di non perdere tempo Perché tanto poi queste live Si protraggono all'infinito Tu vuoi fare colazione un po' di live? Ma no Tanto io ho già mezzo mangiato Allora In sopravvivenza Secondo me è tipo La peggior modalità In cui Giocare Ambra Però Dobbiamo Cioè dobbiamo giocarla Per forza In sopravvivenza Sì secondo me È la peggiore Raga È la peggiore modalità Dove giocare Ambra Anche di brutto Perché comunque Lei soffre molto I fight Da ravvicinata Quindi Madonna 910 Con 3 power up Tolgo Mamma mia Raga Sbroccata È sbroccata Oddio 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 Rischiato un botto Ho rischiato tantissimo Ok No è molto figo Come brawler È molto 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 Figo Come brawler Molto particolare Come brawler È molto Bello Tra l'altro Non mi sono messo Nemmeno le cuffie Sì secondo me Lo nerferanno Ragazzi Secondo me Lo nerferanno Anche prima Di quanto Ci aspettiamo Allora L'unica cosa Buona In sopravvivenza È che puoi prendere Più cassettine insieme Puoi attaccare La gente Anche dietro Le cassettine Però da vicino Fa veramente Poco danno Con 30 I tank Soffre Ok Ok Lì c'è un power up Pino Mamma mia Raga 940 Mamma mia Raga What Che è qua Raga 11 power up Col succo Raga 11 power up Col succo No La Shelly No La Shelly No La Shelly Potrebbe farci male La Shelly Ok Ah Poi Ho anche il gadget Quando voglio scappare Notare comunque Come la Shelly A prescindere Faccia paura A qualsiasi Brawl Sì sì Che quando possa essere Sbroccata Shelly è troppo forte Se clicco soltanto Va di automire E spara Raga Con Ambra È impossibile Mirare Perché lei Prende e spara Tra l'altro C'è pure la sfida Settivonale Vedete Dopo due partite Mi fa uscire Sta cosa mi triggera Da morire Ah ricorda di questo Poi Però Nelle 3v3 Se tu sei bravo Con Piper Brock O Ambra In questo caso I tank Non li fai muovere È quello Purtroppo Il problema Poi Ho il gadget Con cui posso scappare Cioè il gadget Di Ambra Ragazzi È tanta tanta roba Il gadget Di Ambra È davvero Tanta tanta roba Sono raffreddato Morto Ragazzi Non sono raffreddato Sono raffreddato Morto Semi Grazie mille Caro Come stai Buongiorno Un bacione Buongiorno Semi A quanto sta pure Semi Di mesi Non lo so A quanto stai Semi Non lo scrivo più Prima lo scrivo Eh infatti Raga io sto qua Che mi ricarico La ulti Ma che fortuna Quel Barry Non è rimasto Scottato Sennò sarebbe morto Sennò sarebbe morto Ma no Raga È sinusita La sua No no È sinusita È sinusita È sinusita Stai tranquilli Appena fa un po' De freddo Io mi raffreddo Matematicamente Proprio Io matematicamente Mi raffreddo Ah ok 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 Semi Oh 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 Easy Oh no È stato Lo sbaglio Il gadget Ragazzi La fa correre Più veloce E le fa lasciare Tipo tutta La pozza Di petrolio Dietro No ragazzi Ormai Di questi 0500 Non faccio Più il video Faccio Semplicemente La live Che la lascio Online Cioè questa live Ragazzi Poi ve la lascerò Online E via Molto 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 Easy Ho deciso Di far così Davidsor Grazie mille Per l'abbonamento Caro Un bacione Benvenuto Tra gli abbonati Grazie mille Grazie Grazie Del supporto Esatto Come vi sta scrivendo Semi Non vi sbagliate Il codice creatore Non è GG Il codice creatore È GGYT Non vi sbagliate Ma anche perché Regà Su Brawl Non esiste Il codice GG Cioè Prima 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 Era GG Poi l'ho cambiato In GGYT Il codice creatore Ragazzi È GGYT Oddio Oddio Avrei giurato Che Ho visto Qualche movimento Lì Ah no Sta qua Super Brawler Questo si chiama Super Brawler David Zor Grazie mille Anche per la donazione Caro Grazie per il supporto Un bacione Grazie mille Grazie mille Sì raga Ma ve lo sto a dire Che tanto La depotenziano La depotenzieranno Ragazzi Ma secondo me Lo faranno Creo Secondo me Come ho detto Il video Grax Lo faranno E poi più o meno C'è già Sì più o meno C'è già In realtà Molte mappe Che sono state prese Erano fatte Già da Da gente E che prima Dovevi Creare la mappa Su un sito esterno E poi metterla In un server discord Loro a parte Che fanno per le mappe E basta E calcolando Che adesso Hanno messo Le Ah Ma già la misera Speravo di prenderla Quella Jessie Adesso che hanno messo Il mapmaker E metteranno qualcosa Di interno Già loro Sì sì raga Ma sicuramente Lo faranno ragazzi Sicuramente Lo faranno Fuego 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 A me piace Troppo quando dice Muy caliente Muy caliente Lol Madonna raga Allora È pur vero Che io sto Prendendo un sacco Di power up Cioè comunque Sto prendendo sempre Un sacco di power up Però pensavo fosse Un po' più complicato Invece Stiamo andando Abbastanza easy Raga Non lo lasciamo Sto bel mi piace Siamo 1200 Ma siamo ancora 573 like Minima 1000 like Ci dobbiamo arrivare Ragazzoli Quindi mi raccomando Lasciando un bel mi piace Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Fondamentale E le solite cose Raga Le solite cose Ragazzi Dunque vedete Non c'ha tanta vita Cioè io comunque Sono 2-3 volte Che rischio di morire Tranquillamente Proprio Sono 2-3 volte Che rischio di morire Fuego 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 ragazzi Fuego Ma sapete Qual è la cosa buona In sto brawler E che è veloce Raga Cioè è veramente Veloce Lo abbiamo perso Comunque raga Ormai si è fissato Con quello Fuego Si si vai Grabbami Gino Pinguino Si è Gino Pinguino Quello Fuego Ciao Petrice Buongiorno Eh Pociacco Ragazzi Pociacco sta qui Ce l'abbiamo ancora No no Gino Pinguino Raga Gino Pinguino Una volta L'ho anche mostrato In una live La zona da recuperare No no raga Gino Pinguino Eh Gino Pinguino Ci sta per far fuori Gino Pinguino Ci sta per far fuori Ragazzi Quindi Occhio 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 A Gino Pinguino Fuego Stanno già iniziando a cambiare un po' i brawler Fuego Oh regà Mi stava a prendere sto semino GG No No regà Mi sono sbagliato Non volevo usare il gadget Ho sprecato un gadget Ho sprecato È il meme del giorno Ormai Raga Ouch No 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 Ma guardate che sfiga ragazzi Dove è arrivare il gelindo pompato dal succo Ha fatto lui il fuego Ha fatto lui No no Gelindo no Gelindo fa Ice Si è sciolto però Uh un'altra Ok Dove l'hai sentita esattamente la lamentella Lollo Ma di che cosa Tanto se è un passo di che ti lamenti Mannaggia la miseria Dove l'hai sentita la lamentella esattamente Sta trollando Poi ci dobbiamo organizzare a fare le mappe di Brawl Più che server privati Ragazzi sono ma Cioè le amichevoli Comunque sono curioso di vedere Poi dopo Quando salendo un po' di coppe A parte che si fa un po' più seria la situazione Ma anche le casse Iniziano ad avere più vita Diventa un po' più complicato Ho sette anni Quella Iris si chiama No 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 Mamma mia Si si me l'ho letto io Allora rega Colette Doppia Iris Però no io l'ho detto Mi sa Cosa? È una cosa per le scuole Bravo Iris E si Easy Ma sicuramente nelle 3B3 La dovrei provare meglio La dovrei provare un attimino meglio Per capire effettivamente dove worka meglio Tra le altre modalità Comunque si mi diceva che se passa il decreto nuovo Il 75% delle persone praticamente va a scuola Da casa In realtà E avrebbe un 25% a scuola LOL Mamma mia Ok l'ho un po' ittata Allora io mi metto Una ulti qui così Aia Aia Ciao Bortolino Mamma mia rega Qua ho fatto una mega pozza Ciao Barte Buongiorno Ho fatto una doppia mega pozza Voglio vedere che succede Secondo me le brucio tutte e due Vieni Rega lo potevo finire Però voglio vedere che succede con le pozze Voglio troppo vedere che succede con le pozze Non la leggo Barte Se ti legge Ti legge Rega Altra Altra Altro Altro petrolio Rega sto riempi il campo di petrolio Vabbè prendilo Non me ne frega niente Bibi Poi fa quello che te pare Che vuole fare Che vuole fare Nooo Pensavo mi pushasse Vabbè Però vedete ho fatto bruciare tutto Lol Rega Sì 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 Bartolino Ok No Non è vero Non è vero Bartolino Mi dissocio Ho visto un'altra ambra Qui Colette Fuego 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 Ma questo Cioè Sto semino È abbastanza coraggioso No Con la differenza Che però almeno Umbra è leggendaria Bartolino Eh rega Mi sai fa fuori No rega 300 di vita è rimasto Peccato Peccato È rimasto 300 di vita No no Peggio di rosa Secondo me no Peggio di rosa Secondo me no Ragazzi Peggio della prima rosa Secondo me no No non ha detto che è peggio Ha detto che è degna Ah degna No io ho letto alcuno Che ha scritto il peggio No no Bartolino Ha scritto degna di rosa Però la rosa Era un brawler comune Cioè un brawler comune Non è leggendario No era raro È raro Raro Sì Cioè comunque È diverso Leggendario Ci può stare Che sia un po' più Sbroccadino Infatti poi Messi 2.0 Bartolino Ha scritto Allora è Leon È l'uomo Beh il primo Leon era forte Primo Leon era fortissimo Regà Leon pure è stato depotenziato Svariate volte Leon è stato potenziato All'inizio un po' di volte Effettivamente Però non so Secondo me non era così forte Cioè questa secondo me Era proprio nel competitive Leon ha sempre fatto un po' di fatica Ad entrare nel competitive Senti messi 2.0 Mi stai un pochettino rompendo le scatole Anche tu gelindissimo Ma che fai che te la prendi con me Energetic Ma sei scemo? È scemo Oh no Ma guarda che fortuna Un altro che rimane a pochissimo di vita No Come sono morto? Ma c'è un Ma non ci credo Mannaggia la miseria Ragazzi erano accaniti Tutte e due contro di me Si erano accaniti Tutte e due contro di me Rip Si è vero Però potrebbero anche Bannarla direttamente Comunque la banni Cioè anche se non la depotenziassero Prima della championship Comunque La bannano E via Un chat ti hanno chiesto Di usare la sua velocità Mentre ha il succhetto Ah ok Si può provare Sì Allora vediamo Non lo so regà Se cambia effettivamente qualcosa Di sicuro diventa sbroccata Perché diventi velocissimo E troppo forte Però non lo so regà Avete visto Un aumento? Non lo so Non ci ho fatto caso Ma no L'esla Adesso Barte ci saranno I playoff Il 10 novembre Se non sbaglio E non so Se ci saranno direttamente Le finali Già il 10 Non l'ho capito Dovevo chiederlo Effettivamente Infatti volevo chiederlo Prossima settimana Perché dovrebbero esserci I playoff Il 10 E le finali Il 17 Però non lo so Perché non è sicuro Dove l'hai trovata? Raga l'ho scioppata Che domande E raga Questi due ce l'hanno un po' Tutti e due con me Eh la ce n'è un'altra Che si è potenziata Un botto Mi hanno fatto una domanda Di clash of clans Mi hanno fatto una domanda Di clash of clans Ovvero Scusa se non c'entra nulla Ma ogni quanto si maxa Solo il villaggio Che vuol dire ogni quanto Si maxa solo il villaggio Che domanda Oddio in che senso Non ho capito Raga ma ce la facciamo arrivare A 1500 like Secondo me si Secondo me si Secondo me si Il correttore magari L'ha cambiato qualche problema Eh probabilmente Power up C'era troppi power up Ci ho provato a colpirla In un momento In cui stava Faitando con qualcun altro Non è bastato Mi sta bufferando YouTube Bene Off La live Eh si Ma questo è YouTube palese Perché te non sei Non ci credo Non ci credo No ripartita Come ripartita Si Che pizza Mamma mia di YouTube Mi sto veramente rompendo Le scatole Con le live Non è possibile Non è possibile Raga Vabbè si Jess Adesso è troppo Adesso è abbastanza facile Raga io veramente Di YouTube Mi sto rompendo le scatole C'è sempre un bug Con le live C'è sempre un bug Vabbè ovviamente Le cose dietro le quinte Non le vedete neanche Ma tipo Ogni volta adesso Tipo per startare Pure la live Mi da sempre un problema Che non mi salva la live La devo salvare più volte Cioè il tente YouTube È proprio buggato È una cosa incredibile Non capisco perché Non mi ha mai dato Tutti sti problemi Oh raga Mi fa fuori Sto gelindo Eh rip raga Mi stavano a richiude Mi stavano Chiudendo Raga tra l'altro Mancano 80 mi piace Ai 1500 like Forza ragazzuoli No comunque no Sicuramente Ma tra l'altro Mi da anche Buggata la dashboard Cioè tipo Ieri sera Sono andato in live Su Fortnite Sul secondo canale Ovviamente sempre su YouTube Non mi dava i dati Della dashboard Cioè non sapevo Quanta gente Era passata in live Quanta Quanti eravate in live E i like E li potevo vedere Però tipo Non potevo vedere Tutto il resto Le riproduzioni Quanto eravate Da quanto eravate In live Perché comunque Io qua C'ho la dashboard E mi dice un po' tutto Però C'è Lo dico anche Per chi non leggeva La chat Persino Ricaricatela La pagina Perché la live È rimasta indietro Quando YouTube La riproduce Si ricaricate Ricaricate la pagina Anche se no Rimanete indietro Ricaricate la pagina Ricaricate la pagina Ragazzi Perché sicuramente Starete indietro Guarda quello pure Che se è tutto potenziato Devo Devo prendere i tempi Con sto cavolo Di fiamma Devo prendere i tempi Con sta cavolo Di fiamma Cioè Devo capire Che è molto lenta Molto molto lenta La fiamma Si Bartolino Le stavo utilizzando Però non Non riesco A capire bene In che esercito Piazzarle Ho visto un po' Di video in giro Però non mi convince 1500 like Dai ragazzi Grazie mille Mi raccomando Però Non vi dimenticate Di continuare A lasciare like Eh Ma che sta a fa' Che stava facendo Barthe dice Che usa Dieci barili D'ossa Con due golem Tre curatori Un pecca Uno spaccamuro E un golem Eh però Come le metti Cioè In che momento Le metti Come le piazze Quello è il problema No regà Una bea Madonna regà L'avevo uccisa Ma perché mi fa tutto Sto Ah perché non ho Ucciso La luce di aero Mi fa tutto L'alone verde Che trigger Ok Allora Ti sto passando Una cosa Su discord Amore Che mi serve Metterla in descrizione Ok Allora ragazzi Stiamo per far partire Un contest Ve la butto lì Ve la butto lì Raga tra poco Rimanete in live Perché dopo questa partita Vi annuncio il contest Rimanete In live Perché tra poco Vi annuncio il contest Anzi Facciamo così va A 1800 like Vi annuncio il contest Ok A 1800 like Vi annuncio il contest Vi dico Cosa si vince E quello che dovete fare No Buon vita Ciao Buongiorno Tu 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 Sì sì Potete partecipare Tutti Possono partecipare Anche i non abbonati Io sfumo proprio Poi come contest Ok Sì 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 Raga forza 1800 like Forza Ragazzuoli Fuego Ho sciolto Gelindo Sì E mo però Devo stare attento A non farmi sciogliere Io Perché guarda che Gelindo è una bella Rottore di scatola E un sacco di gelindo Mi stanno mettendo in difficoltà In queste partite Non so se stanno a prendere un succo Oh raga vedete 2000 me li toglie Bravo Raga bravo 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 Porca miseria GG GG per lui GG per lui Va bene Mancano 30 like Ma va bene Uguale Ora io vi metto Aspetta Niente Questa è Serena che starnutisce Ragazzi è scandalo No saluta Serena Grazie Un po' è colpa tua Se starnutisco Colpa mia Se starnutisce Eh me l'hai mischiata Da te Mi dissocio Me l'hai passata Allora Ok Ok Allora ragazzi Vi ho messo In descrizione Il link Di un tweet Perché abbiamo aperto A parte mi sono aperto Io il mio twitter ufficiale Ma poi soprattutto Abbiamo aperto Il twitter ufficiale Di outsiders Del mio team competitivo Di brawl E volevamo partire Con un contest In descrizione E adesso Posso spammarlo? Sì E lo può spammare E ve lo spamma Anche adesso Serena In chat Vi abbiamo lasciato Il link Del Del contest Del contest effettivo Ragazzi Cioè proprio Del tweet Diciamo E quello che dovete fare Ci sono Tre gift card Da 15 euro Quindi tre di voi Vinceranno Ed è casuale Nel senso Che poi farei Ma estrazione Dovete fare tre cose Fondamentalmente No quattro Però vabbè Una è easy Seguire La pagina Di outsiders Che è proprio quella Cioè è tutto taggato Ragazzi È tutto taggato Direttamente su twitter Se non avete twitter Regà È gratis Purtroppo Il competitive Di brawl Si muove su twitter Quindi ci siamo dovuti Aprire un twitter L'avremmo voluto fare Su instagram Però Rip C'è il link In descrizione Ve lo sta spammando Serena in chat Seguire outsiders Seguire outsiders Quindi la pagina Seguire me C'è sempre il link Direttamente nel twitter Che vi ho linkato In descrizione Ritwittare E taggare due amici Direttamente su twitter E il tutto Finirà il 31 ottobre Raga Il 31 ottobre Alle 23.59 Quindi prendete Ad halloween Avete circa Una settimana Un po' meno di una settimana Detto questa Detto questo Continuiamo E poi mano a mano Se avete domande Ve lo rispam Eccetera Detto questa No Beatrice Siete pochissimi Abbonati in chat Siete pochissimi Pochissimi abbonati Ogni tanto Quest'estate Lo facevo Quando eravate un po' più Di abbonati in chat Ma se siete pochi Non ha senso E nada Ovviamente Tutto gratis Non è solo Per gli abbonati Non è per nessuno Però è per chi Ci segue appunto Su twitter Ragazzi È tutto scritto Nel tweet È tutto scritto Nel tweet Quello che dovete fare Dovete seguire Me Seguire la pagina Di outsiders Che è la pagina Che ha fatto il tweet E semplicemente Poi Ritwittare Basta che cliccate Retweet Tipo retweet Una cosa del genere Ci dovrebbe essere scritto E Il gioco è fatto Fondamentalmente Perché poi Dovete taggare Due amici Ma quello è easy No 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 Puoi mirare Puoi mirare Semi Puoi mirare Però Tipo Miri Ma spara direttamente È quello il problema Io lo sto retwittando Ho morto Per effettarlo Non per partecipare Sì sì Vabbè Quella Maxine Deve girare Di là Adesso Se vuole passare Ok Easy 9 power up E via Bravo Da ottima scelta Come non l'ho bruciato Come non l'ho bruciato Ah sì sì Bravo Stava anche su Discord Mi dispiace Semino Mi dispiace Semino Let's go Raga Mancano pochissimi Mi piace E duemila E duemila like Pochissimi Mi piace E duemila like Oh no Fuego 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 Oggi ragazzi Fuego style Bella Frank GG per te Oh no Ho lisciato la cassetta Raga Ma perché tutti Ah no Non era Ma sbaglio Ho sentito un altro Frank Raga Mi sa che ho sentito Un altro Frank Quanti Frank Ci stanno Raga Ma Che sono tutte Ste cassettine Lasciate così Grazie ragazzi Raga Il gelingo Può essere Il problema No Uh Stocchetto di qua Raga Questa non posso Perderla Dai Ok Eh Pure Il tic Potrebbe essere Un problema Eh Ho fatto le motte Raga 14 power up Uh C'ha C'ha il succhetto Pure lui Raga Abbiamo rischiato Abbiamo rischiato Perché lui Aveva il succhetto Come non li uso I gadget Ho voglia Se li uso I gadget Però Aspetto il momento Giusto Per utilizzarli Ne ho due Ne ho due No tre Scusate Tre 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 Cerco di sfruttarli Nel miglior modo Possibile Scusate Ragazzi Ma i like Per venire In webcam Li scelgo io Ma infatti Raga Cioè Non fate Non fate Le persone Poco rispettose Eh Fuego Uh 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 Ah top Raga Quasi 2100 like Quasi 2100 like Dagli Raga Dagli Raga Dagli Raga Mi raccomando Continuate Uh L'ha preso Uh L'ha ripreso Cioè Mo mi hai rotto Un po' le scatole Colette Eh No Brava Iris Brava Mi ha preso bene Però è rimasto 880 di vita Non lo so Bart Lo sai che non lo so Mi sa sempre 16 Intorno ai 16 Possibile No mi sa che Twitter Forse è 13 Come Facebook Ah Ah si Mi sa di si Mi sa di si Mi sa 13 Mi sa 13 Mi sa 13 Tra l'altro Io non l'ho ritwittato Come faccio No C'è il tasto Ah c'è il tasto E chi lo sa usare Twitter Che scrive Tipo contest Qualcosa RT vuol dire Che dovete Ritwittare 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 Cioè prendete voi Ragazzi Che cosa dovete fare Ve lo rispiego Mentre facciamo Quest'altra partita Allora C'è il link In descrizione Per Vedere effettivamente Il tweet Quindi Voi vedrete Il tweet Del contest Voi cliccate Sul link In descrizione Vi appare Direttamente Il tweet Del contest E dovete Seguire la pagina Del team Quindi seguire Outsiders Che è proprio La pagina Che ha fatto Il tweet Seguire me Sono direttamente Taggato nel tweet Quindi dal tweet Voi cliccando su GG GGYT Con due trattini Bassi Sembra Mi chiamo Andrei direttamente Sul mio twitter Seguire me Quindi Ritwittare Il contest Quindi ritwittare Sul vostro post E con un vostro post Il vostro tweet Il post Del contest E soprattutto Taggare due amici Grazie a voi Alessandro Per me È un piacere E appunto Come premio Tre di voi Vinceranno Una gift card Da 15 euro Cioè il premio Sono quelli I premi sono quelli Così almeno Tre persone vincono Non vince solo una Avete un po' più Di possibilità E magari siete più Spronati A partecipare Ovviamente twitter È gratis Regà Tutto quello Che dovete fare È tutto gratuito Non è che ci sono Cose A pagamento Cose strane Sì raga Questo Con 11 power up E che gli racconto Eh regà Eh però Se l'è rischiata 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 Parecchio Ragazzi Se l'è Rischiata Parecchio Se l'è rischiata parecchio Sì 2196 Addirittura i like ma io direi che possiamo arrivare Tranquillamente anche a 2500 mi piace Io direi che Possiamo arrivare anche a 2500 mi piace No regà è una bibi E regà è una bibi It's a big big problem Ok perfetto No regà Eh devo far fuori questa Ok Fratelli Che fai che fai Che me pusci così fratelli Fratelli tu c'hai un altro nome Non proprio carino però Infatti ti uccido immediatamente Cioè Questi nomi andrebbero bannati Vabbè Su bro non si può neanche Segnalare 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 si Regà con una mina 1700 Leva oh Sto cicciottone di tic Guarda 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 quel cicciottone di tic Segnalare si Spina Il tozzo Il tozzo si chiamava Eh sì sì Lui già sta al 20 Forza raga Forza raga Forza raga che secondo me A 2500 mi piace Ci arriviamo Ah comunque Prima Leonardo Si riferiva A un aggiornamento nuovo Tipo Ah Se ne ha parlato Sarà qualcosa Che deve uscire Allora raga Io vi dico la verità Essendo partner Supercell potrei Avere anche gli aggiornamenti Di Clash of Clans In anteprima E tutte queste cose qua Però non portandolo Sui canali Non le seguo Queste cose Vi dico la verità Seguo gli aggiornamenti Però Da Come vi posso dire Da Da spettatore Ecco Da giocatore E basta Quindi non lo so Non ho neanche seguito i video Vi dico Se ho capito bene Perché mi è Schizzato alla velocità Della luce Il messaggio Prima Praticamente Gli inattivi Dopodotti di tempo Ti maxano Nel municipio Per spingerti A rigiocare No Allora 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 Questo è un aggiornamento Abbastanza vecchio Che c'è stato qualche mese fa Praticamente Semplificano la vita A quelli Che Ricominciano a giocare Da tanto tempo Cioè Se hai lasciato molto inattivo Il villaggio Per tanto tempo Tu quando rientri Sei più facilitato A fare le cose Ti mettono dei boost Ti mettono delle cose Cosa che ho avuto anch'io Perché avevo smesso Di giocare Da davvero tanti No regà Mi sono distratto Però siamo troppo forti E quindi uccidiamo tutti Siamo troppo forti 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 Arriviamo a 3000 Mi piace Dice Lucio Ma intanto Arriviamo a 2500 Mi raccomando Ragazzuoli Intanto Se volete partecipare Al contest Per vincere Una gift card Da 15 euro La vinceranno 3 di voi La vinceranno 3 di voi E su twitter Non so quanta gente Si muoverà Per partecipare al contest Quindi avete ancora Più possibilità Di vittoria Mi raccomando Ragazzuoli Trovate il link In descrizione Del tweet Per appunto Partecipare al contest E in chat Che ve lo sta Spammando Serena Molto molto facile Ragazzi Dovete Seguire me Seguire la pagina Del team Che è la pagina Che ha fatto il tweet Ovviamente gli outsiders Trovate il link In descrizione Tutto gratis Ovviamente E poi ovviamente Seguire me Che sono direttamente Taggato nel post Del contest No Allora Se è parecchio Che non giochi Restallalo Si subito Te lo dovrebbe dare Cioè Dipende da quanto Non ci giochi Se non ci giochi Da una settimana Due settimane Non lo so Comunque c'è il tempo Non so quant'è però Non so quant'è Però se non ci giochi Già da un mesetto E passa Penso che puoi Tranquillamente Sufruire di questo boost Eh raga A me era finito il succo Lui ce l'aveva ancora Però l'ho ucciso Raga Cioè ha vinto quello Con un power up Ragazzi Ha vinto quello Con un power up Perché io prima di morire L'ho infuocato Quest'altro ed è morto Comunque Bartlett Ha consigliato Di fare La serie Retro Live Di clash of clans No Di fare tipo Che so Un giorno Una cosa dedicata Che porti Giochi vecchi Che portavi sul canale Ci sta Però a questo punto Non so quanta gente Mi segue Per clash of clans No No Oh non mi spara Raga Ma ce l'avevo il colpo Camisa Non ho cliccato bene E vabbè raga Niente Starti topper Saper soffiammi il naso Rip No Solo se Solo se lo infuoghi Bart Cioè Solo se Passa sulla pozza Mentre tu la infuoghi Fuego Muy caliente E per esempio Mortis potrebbe essere Un problema Perché mi counter Però No Il colpo base No No Il colpo base Non fa il collateral Cioè Aspetta Si Può prendere più gente Però Si 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 Io pensavo Intendessi L'infuocatura Però si Può prendere Anche più gente Se ti fanno il trenino Davanti Infuociti tutti Si E che non lo stai a vedere Le casse le sto facendo Tutte insieme Sempre Madonna Che pizza Che sono Quali sono i counter Di ambra I counter di ambra Sono sicuramente I tank Mortis Usato in un certo modo Secondo me I long Utilizzati bene Secondo me Un broc Una piper Utilizzati bene Non la fanno muovere ambra Però Certo Se con ambra Sei bravo Usare i gadget E tutto È molto buona Secondo me La depotenzieranno Però ci sono alcuni brawler Che la counter E' tra quelli che appunto Ho citato Iris Iris pure Iris la counter Era pure secondo me Non era 4,99 Giusto? Si 4 No 4 dollari Però è 99 4 dollari e 99 In euro Non lo so Quanto sarà In euro Ragazzi Non lo so Quanto sarà No perché Io l'ho lasciato Prendere Vabbè Ma regà Non lo so I dollari Tecnici Dovrebbero valere Meno dell'euro Quindi dovrebbe essere 3,49 Forse Sì Sì però Dato che 4,20 Non la faranno mai Non lo so Forse 3,99 Faranno Per me Sì probabilmente faranno 5 euro E via Sì ragazzi Sono raffreddato Morto Però tranquilli Non è quello che pensate È proprio raffreddore No regà C'ha più power up Di me Porca miseria Come c'ha più power up Dove caccia Non hai presi Tutti sti power up Questo Ragà Dove aveva presi Questo qua Tutti quei power up Regà Mancano 10 like E 2500 mi piace Mi raccomando Ragazzi Se ancora Questo è fatto Lasciando un bel like Io quello Non ho minimamente capito Dove possa aver preso I power up No dai Con 40 di vita No però Ok Madonna regà L'abbiamo Quasi distrutta Quella E questo Muore Mamma mia Regà Quanto danno fa La pozza Con tanti power up Regà La pozza Fa un sacco Guardate Di nuovo Mannaggia La miseria Che fortuna Stabea Hai riuscito A prendere Il succo Prima di me Rip Oh 2600 like Ma ve l'avevo detto E ce la facevamo Forza ragazzi Se ancora non è stato fatto Continuate a lasciare like Mi raccomando Il gelindo Ci ha lasciato Perde Ok Oh OS OS Gatto Man Fra OS Che è per noi No Invece mi puscia Cattivo Ma cattivo Se hanno OS Se mi pusci Cattivo Ti faccio anche la faccina Alone wolf Niente I versi I gridi di battaglia Anzi Di ambra Mi fanno Impazzire Ah Ok Madonna Regà Sta già iniziando A diventare Più difficile Le partite Finiscono sempre Più tardi Che pizza E muori Che fa sto Sandy Ma pure sto Frank Ma che fate ragazzi Ma io Vi squaglio Bam Eh dai Leon È inutile Che scappi Su Tanto non ce la puoi fare Dai Su Eh no No Ambra Ambra lo countera Particolarmente Bene Frank Perché c'ha il gadget Per scappare In caso di pericolo Il colpo Il colpo Lo squaglia Letteralmente Beh diciamo che Col succo Sono un po' tutti Devastanti Ok Ok Top Eh raga Ma Ma tutte ste Ma tutte ste Ste Ambra Ma dove ritrovano Tutti sti power up Ogni volta Oh no Un dana Mike Oh no Un dana Mike Ecco Vediamo Comunque sì Tanto già un sacco di volte Non mi ha fatto fare gioco ancora Quindi figurati Nooo Ma sempre così sto morendo Io lo uccido Ma questi prima di morire Riescono a uccidere me O comunque viceversa Niente Mi sa che è arrivato il momento Di iniziare a giocare Un po' più safe Devo iniziare a giocare Un po' più safe Regà Ok Ok Ah finché è così Vabbè ovviamente prendo push Eh se mi conviene push Chiaro Ecco Già se è così Non pusho più Dai Che sfiga Regà 800 di vita Mi bastava rinfocarlo un attimino Niente Infatto Sì comunque il brawler è troppo forte Ma è troppo forte Umbra regà Poi diciamo che sopravvivenza Comunque non è la sua modalità Però Rimane troppo forte Raga Mancano meno di 300 like Ai 3000 Quindi se ancora non è stato fatto Lasciate un bel mi piace Io vi ricordo anche di iscrivervi al canale Se ancora non è stato fatto Soprattutto Mi raccomando Vi ricordo anche Che c'è un contest Attivo Sul twitter Del mio team Gratis A cui potete partecipare tutti C'è il link in descrizione E ve lo sta spammando anche Serena in chat Il contest Appunto con In premio Delle gift card Da 15 euro Ci sono ben 3 gift card Quindi 3 di voi potranno vincere Ragazzi C'è il link in descrizione Tutto gratis Potete partecipare tutti Ma soprattutto I passaggi sono molto facili Seguire la pagina del team E trovate appunto Il link in descrizione Del tweet Della pagina del team Seguire me Seguire me E sono taggato ovviamente Nel tweet del contest E ritwittare Taggando due vostri amici Non ci credo Non ci credo Non ci credo ragazzi Per l'ennesima volta Moriamo così Perché il problema di Ambra È questo ragazzi Non ha il colpo secco Che ti finisce Tipo Piper Ci mette un po' A carburare il colpo Quindi se tu non riesci A finirlo immediatamente Gli altri ti uccidono È quello il problema Rega di Ambra È per questo che ogni volta Uccido prima di morire O viceversa Raga mancano 140 like E 3000 mi piace Secondo me Ci possiamo arrivare Molto 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 facilmente Io vi dico solo questo Rega di Star Power Ne ha solo una per adesso Ha soltanto un'abilità stellare Per ora Dai ma da lì giù Mi sta hittando E niente E niente Qui si sta annacchianendo Tutti con me Ragazzi Cosa E niente Cosa Cosa Allora Raga scusate se sto un attimino zitto Ma qui mi serve un po' di concentrazione Che sennò non mi porto a casa nemmeno questa Uh 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 Ok 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 raga Stiamo quasi a metà del nostro percorso Dopo un'oretta e cinque minuti Ci sta Ovviamente dopo diventerà sempre più problematico però Però Ce la si può fare Raga meno di cinquanta like e tremila mi piace Che fortuna sta Iris Non l'ho preso Raga comunque è difficilissimo mirare con sto brawler ragazzi È complicatissimo mirare con sto brawler Eric nella mappa ci sono i succhetti per cui maxato o no Compensano quelli Se ti pusha uno col succhetto è come se ti pushasse uno maxato E che non lo sapevo che non lo sapevo che non lo sapevo che non l'avevo capito Finalmente Francesco in live è un po' difficile fare i tali Beh oddio Provo impossibile direi Sì sì Ciao Pietro Sì sì no quello sì semi Quello sicuramente Però è un po' un po' complicato mirare No ragazzi oggi niente video Anche perché sta live rimarrà online E intanto abbiamo raggiunto i 3000 like Grazie mille ragazzuoli Mi raccomando se ancora non l'este fatto Continua da lasciare un bel mi piace Ma il gelindo ha lasciato pure quell'altra cassa Ma io me la vado a fare Va bene Ok No Eh vabbè rip Mi ha anticipato lui Mi ha anticipato Peccato Ma no ma anche con l'auto aim non è facile Eric Che vuol dire È da prima che squaccia Davide E buona fortuna David Non è Non sarà facile È un po' abbonato Sì 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 Non sarà facile David Ma col giusto impegno E la giusta dedizione Ce la farai Che si è scelto Un bel brawler No ma mille Bombardino sciolto sì Regà ma perché Cioè comunque toglie tanto Ma poi regà Una mia sensazione Regà una mia sensazione O non ci arriva fino in fuori Ah no no Sì ci arriva Mi dà la sensazione Ogni tanto le fiamme non arrivassero alla fine del Del colpo A proposito di Leon Proviamo a sciogliere questo Un po' l'abbiamo sciolto Ci hanno ricaricato la ultima Non è stato proprio No 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 Cioè mentre ho fatto così Questo mi ha pushato Io non ho parole Ma la gente La gente mi guarda Secondo me La gente mi guarda Ma è proprio Appena ho fatto così Appena mi soffio il naso Appena faccio qualcosa Subito mi pushano Penso che oggi Avrò perso 6-7 partite Soltanto perché Mi hanno pushato Nel momento Sbagliato Cioè per loro Il momento giusto Però per me Il momento sbagliato Clamoroso Vabbè Sì Gelindo È molto forte No Eh Mo se ripiglia Quella Bea Maledetta Eh raga Mi sto cercando Di concentrare Perché appena Mi sono deconcentrato Un paio di volte Non ce l'ho fatta Vabbè Cacchio mi toglie Non ci credo Dai eh Cioè Sì Ma mi ha detto Sfiga Nell'1v1 Eh Ok Ma per adesso Tutto bene Col push Tutto bene Diciamo che Quelle partite Sto perdendo Le sto perdendo Per distrazioni Ok E ok Eh però Mi devo risoffrire Il naso Adesso arriva Il pusherino Sì sì Sicuro La pam Regà La tolgo Sarebbe stato Meglio togliere La iris Vi dico la verità Però Niente Sto gelindo Mi devo rompere Scatola Io sto a far fuori Tranquillamente La Jackie Ok Emo Quella là Fa fuori Tutti E si Prenderà Parecchi Power up Madonna Regà Ho rischiato Tantissimo Noo Noo Perché Perché Quando stai Vicino a uno E tu Stai mirando Da una parte E quello Cambia direzione È difficilissimo Cambiare direzione Del colpo Non mi dovevo Avvicinare Qui Rip Mannaggia La miseria Però sto iniziando A capire Sto iniziando A capire Cosa posso E cosa non posso Fare con sto Brawler Che è fondamentale Capire ste cose Da vicino Allora Dipende Dalle situazioni Però in tante situazioni Da vicino È addirittura Peggio Di un Brock O di una Piper Effettivamente Dalla chat Ti dicono Che finisci Le partite Sempre con tre gadget Non li usi Ma Oddio Sempre no Ogni tanto li uso Però ultimamente Sì non li sto usando Mm ma madonna regà quanto mi ha tolto lol no 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 stavolta regà mi prendo tutto il tempo e mi devo prendere eh che cavolo gelindo gelindo con sto cavolo con sta cavolo di ulti è sempre una mina vacante gelindo con quella ulti è sempre una mina vacante raga secondo me oggi riusciamo ad arrivare anche a 3500 mi piace me la sento me la sento così quindi mi raccomando ragazzoli se ancora non l'aveste fatto lasciate un bel like iscrivetevi al canale fondamentale fondamentale se ancora non l'aveste fatto l'iscrizione al canale vi ricordo anche che c'è un bel contest attivo su twitter tutto gratis potete partecipare tutti quanti c'è il link in descrizione per partecipare ve lo sta spammando anche Serena adesso in chat direttamente quindi non vi potete proprio sbagliare se non avete twitter ragazzi mettete due secondi per farvelo è gratis perché il contest è per ben tre gift card da 15 euro quindi tre di voi possono vincere la gift card osgg ha ucciso g ma com'è possibile ha ucciso quello ma sarà uno che sarà morto per conto suo e ha dato la kill a me quindi se l'ho hittato tu per ultimo si no non l'ho hittato come no non mi sembra averlo hittato quel tic non l'ho nemmeno mai visto il tic quindi raga mi raccomando link in descrizione per il twitter ovviamente vi basterà seguire la pagina del team che è la pagina che ha fatto il tweet vi basterà seguire me questi stanno teamando e noi li bruciamo tutti e due vi basterà seguire la pagina del team di twitter vi basterà seguire me su twitter mi trovate taggato direttamente nel post del tweet appunto del contest e e nada easy ragazzi quando avete qualche domanda fatela direttamente sì infatti raga easy boys easy boys grado 15 raga 200 punti stellari siamo a 300 4 coppe oh no david porti un box opening con pandora ma se c'è qualche box opening da fare ragazzi ultimamente ho notato che i box opening vi stanno stufando parecchio peraltro hanno nominato pandora e sta abbagliando sta abbagliando ma raga clash of clans mi piacerebbe anche farlo in live però boh non lo so per me l'ho preso più come gioco chill su cui star lì tranquillo sì raga io faccio sempre così perché cioè che mi rappresenta che vuoi teammare che io ho 5 power up ok pietro non gioco da un sacco sono ferma tipo a 20.200 ti sfido a shoppare una skin che vuoi dire ti sfido a shoppare una skin un po' impossibile perché l'ha già shoppata no il bo diabolico non l'ho ancora shoppato che devo fare un video devo fare il video perché ci devo fare il video raga raga mancano poco più di 200 like e 3500 mi piace mi raccomando se ancora non è stato fatto lasciate sto bel mi piace madonna raga l'abbiamo distrutto leon gioco da ipad gioco da ipad sì e ti chiedono quale brawler leggendario il mio brawler leggendario preferito raga se la combattono proprio ambra e leon non saprei forse perché è più nuovo vi dico ambra però pure leon non è male però no no dai vi dico leon vi dico leon leon non si infama si veramente tutto convinto mi ha pushato però io avevo troppi power up ecco leon è un counter di ambra secondo me leon può essere considerando un counter di ambra guarda 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 brock guarda brock pure non ho capito perché non ha sparato l'ultima volta mi avrebbe ucciso vedete rega da vicino col fatto che non fa subito tanti danni ma ti deve prendere per bene è un po' macello assomiglia molto a Ems Maxine cui broler un po' così è per la cronaca cioè per rimanere in tema quello che hai detto in chat l'ho detto secondo me è la sorella di Maxine è appunto è scritto S ninja eh si rega no ragazzi oddio l'abbiamo fatta fuori però incredibile rega non so nemmeno io come abbiamo fatto ma ce l'abbiamo fatta mamma mia rega dai perché l'ultimo si nasconde sempre così non abbiamo un club sul royal let's go si ci potrebbe stare anche se secondo me Maxine è un altro di quei brawler che potrebbe counterarla eh e a chi non piace distruggere teschi in mappa hai visto quello che ha fatto col mapmaker una mappa intera tutta di teschi no non ho visto si metteva poi con iris la testa e poi mi dava in mezzo tesi con la testa oddio che figata vedete rega da vicino è complicatissimo utilizzarla nell'1v1 da vicino è veramente difficile ecco davide le porte sono partite a andarla fuori ciao narov ciao narov buongiorno o no e muori sta pozza non è la mia ah si era la mia lol tutto bene tutto bene tutto bene caro tu che ci racconti a parte un po' raffreddati ecco no quello c'è da dire un po' raffreddati ma per il resto tutto ok dai mannaggia la miseria madonna raga devastati tutti quanti col fuoco devastati tutti raga la faccetta disperata tra l'altro chissà se c'è ancora in chat quello che prima ti ha chiesto se conoscessi narov lol ho visto un sacco di gente la trovata nelle cassette del pass tutto 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 che ha fatto? Non le ha mandato la notifica in pub Rip, ciao Giulie Uh, geniale sta Iris D'Auro ti dice che ti è andata male Altrimenti l'avrebbe scioppato col tuo codice È vero, mannaggia Non è già no, meglio, meglio Però col tuo codice ha scioppato Shelly e Piper È un bacione a Naro Che utilizza il mio codice creatore Mi raccomando ragazzi, pure voi Non fate le brutte persone Codice creatore GGYT Tutto attaccato nello shop di Brawl Stars E anche tutti gli altri giochi Supercell E qui c'è la Piper No, c'è solo una torretta Casper Ok, sti due power up mi servivano Perché sta Iris sta diventando un po' troppo forte No, intanto è uno shoppato Shelly strega Shelly strega È GG raga, Shelly strega è bella Shelly strega è molto molto bella Io ricordo, ce l'hai descritto qua sotto Codice creatore GGYT Fondamentale per supportarmi Compresa la signorina Julie Brava Julie Però raga, ultimamente pochissima gente mi sta taggando su Instagram Allora, è vero che purtroppo ormai i tag si possono vedere solo per tre ore Quindi se non vi riposto è perché magari in quelle tre ore non mi sono minimamente collegato a Instagram E quindi non ho visto i tag Però poca gente mi sta taggando ultimamente Però vabbè ci sta perché prima di Halloween Apparente su Brawler non si poteva shoppare più niente Dovada difficile ti pone Laura John Bibi o Shelly strega? John Bibi o Shelly strega? Allora, a livello di outfit ti direi Shelly strega Però a livello di colpi, animazioni forse Bibi, John Bibi Raga, un altro qua Venite nella mia tana di petrolio Venite nella mia tana Vieni, vieni signorina Piper Venga, venga Venga, venga, non le farò nulla Ma signor Naro, tanto noi non abbiamo problemi di scelta Ci coppiamo tutto e basta Ma sì, non è quello il problema Anche lui è sciampatutto Perché stanno detto E questo è il problema di Ambra Mannaggia la miseria Col gadget non ci si può pushare così Porca miseria È troppo difficile Quando pushate uno Vi cambia direzione Con Ambra continuare a colpirla È veramente difficile Eh sì, 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 sì Semi Sicuramente Sicuramente Eh, di nuovo Stessa cosa Niente Devo un attimino regolarmi Non ci ho fatto cazzo Cosa? Hai chiamata Piper Non Pam Ti sta prendendo in giro Ah, lol Vabbè, era palesemente una Piper Quella lì, ragazzi Cioè, non venite a dire il contrario Perché era palesemente una Piper Ecco, l'ho chiamata Piper Vedete, Piper sulla stessa lane Ve l'ho detto Gigino Ti hanno chiesto di portare Grax su Among Us Grax su Among Us Ma lui non ha mai fatto live su Among Us, regà Mi sa di no Mi sa di no E prima di un paio Tocca chiedeglielo Io non lo calcolo mai Perché proprio non l'avevo visto Cioè, non l'ho mai visto su Among Us Quindi non glielo ho mai chiesto Però effettivamente ci può stare Lol, David Ma che sei scemo, Dynamite Ah, dice che non gli piace tantissimo Perché ha detto che se lo migliorano Allora, forse lo porta Ah, ok Ok, easy Oh, scondro finale Let's go Next Ho cliccato per sbaglio il pulsante Esce Perché mi sembrava che stessi giocando io Lol Lol Quando ti immeresimi troppo In quello che guardi Ma Grax Ti sta simpatico Grax No, ragazzi Grax mi sta veramente Sulle scatole Raga, come fa a starmi sulle scatole Uno con cui faccio un sacco di video Cioè, o non avete visto i video E magari non lo sapete O non lo so Fanno video insieme dall'inizio di YouTube Praticamente Sì, cioè Ma so più di cinque anni Che lo conosco Grax, raga Cioè Sembra che sei sudato Mi sa che sei sudato Mi sa che so sudato Ecco, ora Eh, mo Ha rotto un po' le scatoline Però, eh Ok Top, raga Allora Mister P sopra E non ho capito chi è là sotto Facciamo il listing con Grax Per fare visualizzazioni Sì No, raga Hanno chiesto se sei il vero No, 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 no Guarda che fortuna Raga Ha vinto il Mister P Con una Con una gemma Perché Iris Si era incagliata con me È incredibile Ah Ma sto naso rosso Mi sto trasformando in un'arena Ragazzi Sta arrivando Natale Piano piano Mi sto trasformando Ti mancano le corna E niente Vabbè Serena mi preannuncia Le mie corna così Ma no Trollavo Trollavo Vabbè Davanti 1200 persone No però Tra l'altro 1200 persone Di cui non so quanta gente Secondo me non ha messo like Che qualcuno di voi Ragazzi Non ha messo like Quindi mi raccomando Ragazzuoli Lasciate un bel mi piace Abbiamo superato i 3500 Secondo me A questo punto Possiamo raggiungere Anche i 4000 Non vedo perché Non poterli raggiungere I 4000 Mario mi stava per distruggere Ma no Trollava Non li stava sulle scatole Grax Ma no Regà Ma trollava Come state scherzando Luca ti regalo il cerchietto Con le Corna Va bene Sono i carini Che vendono da Tiger Ho ucciso prima io eh L'ho ucciso prima io Non ci provate Eh 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 Ragazzi ma mi può star sul cavolo Grax Lo conosco da 5 anni Facciamo un sacco di video insieme Da sempre E poi è una delle persone Con cui proprio mi trovo meglio Su Youtube C'è in assoluto proprio No Non sto bruciando anche l'altra Tic tu hai fatto proprio la scelta sbagliata Comunque Cioè non me puoi pushar così Che mi rappresenta Giulia vuole il dissing Ma come vuole il dissing Giulia Mi serve acqua per caso Magari Mi serve anche uccidere questa Questo stick Che si chiama Aurora Gunter No No Bea no No Bea no Bea no Bea no Ok Ragazzi il codice creatore È GGYT GGYT Non vi sbagliate Ce l'avete scritto anche qui sotto Non vi potete sbagliare Regà 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 Cioè scelta Mamma mia ragazzi Scegli pure da lontano ormai Ok grado 17 Ragazzi mancano 300 like Ai 4000 mi piace Vi ricordo che c'è un contest Per vincere 3 gift card 3 di voi ragazzi Vinceranno una gift card Quindi c'è Una percentuale altissima Di poterle vincere Sul discord Del nostro team Degli outsiders Sul twitter Anzi Che cosa sto dicendo Sul twitter Degli outsiders Trovate il link In descrizione Del tweet Dovete fare dei passaggi Molto semplici Veloci Raga molto molto easy Allora mi è arrivata acqua Aspetta aspetta amore Non puedo adesso E C'è il link in descrizione ragazzi Per quanto riguarda appunto Il twitter Dovete Seguire la pagina Del tweet Del team Che appunto È la stessa pagina Che ha fatto il post Del contest Quindi appunto Outsiders Seguire me su twitter Sono taggato ovviamente Nel Nel post Quindi mi trovate easy Ritwittare Taggando due vostri amici Su twitter Ovviamente Molto molto semplice Raga Ems con quella Con quella skin È una chica mala Sì Eh penso che un minimo Di Di pezzi Ti devi lasciare Bartolino No come è mai stato Mi sa che devi dare tot di spazio libero Ogni spawn Aspettate raga Mi faccio sta cassetta E poi vado A riprendere quel power up Sempre se Me l'ha lasciato il succhetto No Me lo tengo così va Me lo tengo così Grazie dell'acqua Ma che se l'aspettava sta Ems Che c'ero io lì dietro Oh regà Con 300 di vita Meno male non mi ha pushato Quella piper Easy No no C'è la ulti Peccato Volevo provare ad ucciderlo Prima che prendesse il succo Va bene Va bene Va bene Muy caliente Fuego Muy caliente Fuego Hai capito Nicolas No regà No regà No regà Non pensavo Non pensavo Ma arrivasse a dittare La pam La pam Non pensavo Ma arrivasse a dittare La pam Regà Peccato Aia la bibi Però se ne va Che sta a fare Sta allagà Che sta a fa' sta allagà Te ne dovevi andare Mio caro amichetto Carl Russo Con la ulti Ok Ok Perché mi ricarica La ultipola da qua Se non sto proprio Sopra il petrolio Eh perché Paolo è un po' Difficile Portarlo al grado 35 Regà Mancano poco Più di 150 Like Per Arrivare a 4000 Mi piace Secondo me ce la facciamo Lol Daniele Sì Naro Sto d'accordo Me la so rischiata Eh però Ah se mi iniziano A lacrimare Anche gli occhi Diventa un problema Raga In questa lobby Ci sono No Più di due Tre persone Si chiamano Luigi No No regà Non ci credo No regà Non ci credo Non ci credo Vedete comunque La sera di più Un 8 bit Per esempio Porca miseria Non ci credo Regà Peccato Speravo di Riuscirlo a Allaserare Invece me l'ha Fatta lui Mannaggia la miseria Ragazzi Quella era un'altra win Eh Quella sarebbe stata Un'altra win Un'altra win Allora Questo spike ormai Si è fissato Come regà Palesemente Ok Ok L'ho itato L'ho itato L'ho itato Ai 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 No regà Peccato Guarda quello spike Maledetto Che l'avevo lasciato One shot Due volte Peccato Ok Ok Top 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 Ok Ok Ragazzi Regà Mancano poche coppe Mancano poco più di 50 coppe E arriviamo a 500 Finalmente No C'è un Mario con un Anita Cattivissimo Non ha già la miseria E dai Con 23 di vita C'è regà Ma sto Mario Ma quanto è fortunato Che sfiga regà No regà Mi sono incastrato Un segreto Fuego Fuego Ragà Meno 11 like Meno 11 like 4000 4000 Meno 11 like Ai 4000 Uh belle Ste 3 di fila Bellissima Così Regà Mi faccio Un botto Di power up Subito Bella lì 4000 4000 like Let's go Che è che poi Mi ha dato i messaggi E poi la cancellata Ok Siamo rimasti in 3 Questi se stanno Proprio belli Che a nascondere Bella Ema Auguri Auguri Ema Un bacione Uno degli abbonati Più storici In assoluto Del canale Grande Ema Come stai Auguri Ema Auguri E comunque Iris La si soffre Un sacco Adesso sarà Il compleanno Di un sacco Di gente No ha fatto il giro GG GG Regà Ha fatto il giro Però Ormai Sono diventato Un master Ambra Ormai No I corvetti Iniziano ad esserci Iniziano ad esserci I corvetti Iniziano ad esserci I corvetti Iniziano ad esserci I corvetti Aleonna Però Stai un po' Rischiata Qua così Eh Sto Beryl Ha fatto la cosa giusta No No Meno male sta fermo Ma non ci credo Alla fine è uscito lui Vincitore Ma che è sta cosa Non ci credo Ragazzi Non ci credo Regà Lol Non ci credo Ragazzi Non ci credo Regà Ha vinto la Penny Che era rimasta Ferma Si è pure ritrovata Con 7 power up Agostino Però muori tu Muori pure tu Muori pure tu Eh niente Regà Ci ho provato Leonna Regà 166 176 Di vita Ma si può Che sfiga Regà Ok Ecco prima dicevate Che non usa mai il gadget Adesso ne ho usate due Nel giro di tre secondi Eh ma si Ma perché dipende Dalla partita Dipende Raga Ok Ah ma poi scusa Sopra le 300 coppie Non c'è la cosa Che nasconde i nomi Perché nu si vedono Oddio è vero Regà Perché si stanno vedendo i nomi Se sopra i 300 coppie Regà L'hanno cambiata sta cosa Adesso si vedono i nomi Sopra i 300 coppie Adesso è sopra i 650 Ah ok Vabbè giusto Ci sta Quella Quella cosa Era vecchia Di 28 anni Ci sta Che hanno aumentato Le coppie Ci sta Ok Ok Fuego Però anche nelle 3 v3 Non si vedono più i nomi Neanche nelle 3 v3 Neanche nei 3 v3 Lol Non la sapevo sta cosa Io pure me la sono Completamente persa Mi sono spaginato no 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 lol let's go raga ok 457 ragazzi ci siamo quasi abbiamo superato anche i 4.180 like forse regà per il push finale lasciate un bel mi piace lasciate un bel mi piace per questo che sarà il push finale forse ragazzuoli ciao Bartolino io credo nei vostri like ciao Barte vi ricordo anche ragazzi che abbiamo iniziato un contest c'è un contest in cui voi potrete vincere aspettate un attimo mi devo concentrare un secondino qui potreste vincere 3 gift card da 15 euro su twitter del team regà c'è link in descrizione per il tweet del post insomma il tweet del contest vi basterà seguire la pagina di twitter del team seguire me su twitter e ritwittare taggando anche due vostri amici molto 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 semplice ragazzi tutto gratis aperto a tutti vi basterà cliccare il link in descrizione se non avete ancora twitter ragazzi potete farlo tranquillamente in due secondi ma davvero in due secondi comunque il bo di prima ha fatto una morte bellissima e let's go sarà nascosto dietro la cassetta sapendo che tu lo dittavi comunque eh si lo so lo so ma un sacco di gente vabbè perché lì per lì ti viene a fare solo quello non ho visto qual è il brawler di là regà non ho minimamente visto qual era l'altro brawler vabbè se n'è andato eh tipo qua il mortisma avrebbe potuto pushare anche adesso te l'avrebbe potuto pushare invece se n'è andato si ce la possiamo fare a sopra di 4500 like regà taggate due persone a caso Elia in caso persone che magari conoscete che hanno twitter magari anche se non sono amici non lo so taggate anche persone a caso allora lo scopo sarebbe anche proprio quello di eh taggare i due amici che parteciperebbero al contest quindi magari far aprire anche il twitter a ad altri vostri amici che non ce l'hanno però se non ci riuscite no ragazzi non le registro più i 0500 faccio direttamente la live e ve la lascio online che scemo quel corvo bel jump complimenti no ma mi avrebbe potuto uccidere cioè è stato bravissimo sì appunto era stato bravissimo sto corvo regà ha fatto jump da auto aim mi sa no no ma neanche mi ha saltato troppo strano ma ha sbagliato che ha smirato probabile easy boys let's go come un'arena come un'arena ragazzi mi sto trasformando in un'arena regà mancano 23 coppe quindi uno non ve ne potete più andare perché mancano 3-4 partite due lasciate like perché mancano meno di 200 like ai 4500 3 su forza supportate 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 e e e e è nada ah è stato è passato cosa il decreto nuovo sì stavo a leggere prima stavano a scrivere sul gruppo ah però ha cambiato tipo il bar e le cose che avevano detto che chiudevano la domenica invece adesso le aprono ieri nella bozza diceva che chiudevano vediamo regà dovrebbe fare il discorso stasera Conte può essere? avevo sentito sta cosa? regà fammi bravi regà fammi bravi fammi bravi se no quasi rimanemo chiusi in casa fino al 2022 eh infatti ha detto che il condivore da domani sarà almeno fino al 24 novembre sì sì eh adesso comunque all'una e mezza la conferenza stampa ah l'una e mezza la conferenza stampa rip ok ok ragazzi ragazzi 13 coppe e ci siamo 13 coppe e ci siamo forza 13 coppe e ci siamo oh no che c'è le persone al tavolo sono state ridotte a 4 eh salvo se non sono tutti conviventi regà 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 mancano pochissimi mi piace per i 4500 ormai l'abbiamo detto dai che ormai ci siamo dai che ormai ci siamo dai che ormai ci siamo ragazzi no regà ho bruciato tutto rip madonna regà quanto me la so rischiata eh voi siete una famiglia siete conviventi quindi anche se siete 5 potete andare tutti insieme no no sì esatto se siete una famiglia e vivete insieme c'è scritto escluso i conviventi quindi io mi stavo divertendo a scuola mi dissocio Davide come ti stavi divertendo a scuola let's go regà tre coppe tre coppe tre coppe ragazzi tre coppe mi raccomando mi raccomando vi ricordo per l'ultima volta lasciate like mancano meno di no 50 like circa i 4500 vi ricordo contest su twitter abbiamo aperto il profilo ufficiale sia mio di twitter che quello degli outsiders del mio team trovate il link in descrizione per partecipare al contest è un tweet dove vi viene spiegato quello che dovete fare ma fondamentalmente dovete seguire la pagina degli outsiders che è la pagina che ha fatto il tweet del contest me che sono taggato nel tweet del contest ma soprattutto anche ritwittare e taggare due amici detto questo mettiamo pronto il regalo ci sono tre gift card quindi sono ben tre quindi avete ancora più possibilità di vincere detto questo ragazzi ci siamo regà ci siamo potrebbe essere l'ultima partita come non riesco a prendere la penny f in chat ragazzi f in chat regà non sono riuscito a prenderla per pochissimo non sono riuscito a prenderla per pochissimo ragazzi eh narro se la controllano a me è un problema perché? cosa? la carta d'entità per verificare se si è convivente ah beh sì non l'ho ancora fatta quella di aggiornando questo qui a Roma mannaggia la miseria regà vabbè dobbiamo arrivare o secondi o vincere ovviamente non sono ammessi altri risultati ok siamo con un buon inizio abbiamo iniziato bene stiamo continuando meglio ah no 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 quel firefox non mi piace quel firefox non mi piace mero fortuna ha sbagliato la ulti forse ce l'avremmo fatta comunque eh si sta per ricaricare la ulti ragazzi quindi dobbiamo farlo fuori top ok il frank non è un problema ok 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 regà è fatta regà è fatta regà è fatta regà è fatta ce l'avremmo ce l'abbiamo ce l'abbiamo fatta adesso ci stiamo per godere tutti i trofei che arriveranno nella mia bacheca diciamo così abbiamo superato i 4500 like regà vi ringrazio per il supporto 300 punti stellari premiamo esci 358 trofei e boom si torna sopra le 21000 coppe questa stagione rispetto a quella precedente ho pushato un po' meno infatti ho pochissimi brawler sopra le 5.50 eh dovrei ripusciare un po' regà però ormai so troppi 40 brawler da tenere sopra le 5.50 so troppi regà so veramente veramente troppi detto questo si sicuramente nerferanno ambra la nerferanno sicuramente la live rimarrà online quindi la potete recuperare come quando volete mi raccomando lasciando un bel mi piace iscrivetevi al canale vi ricordo il contest per vincere le gift card gratuitamente c'è il link in descrizione per venirci a seguire su twitter partecipare al contest eccetera eccetera stacchiamo così se ne andiamo a pranzo che è pure mezzogiorno e 40 un bacione ragazzi ci becchiamo domani con un video delle live eccetera eccetera sicuramente sia qui sul primo e sul secondo canale youtube niente raga buona giornata buon fine settimana buona domenica anzi ormai un bacione ciao 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 ciao